Da oggi in poi, visto che ho fatto i soldi, farò solo video vestito bene. In realtà qui dentro fa un freddo boia e questo qui è l'unico capo di abbigliamento che ho trovato per coprirmi. Su questo canale abbiamo fatto una serie di esperimenti molto strani e molto stupidi, molto strani e basta. Questo potrebbe batterli tutti. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Qui, come sempre, sono io, Mr. Sederify. Grazie soprattutto per il feedback del video. Lo speciale di 40.000 iscritti è andato non bene. Di più sta roba tipo 5.000 mi piace. Io quando ho sparato 10.000 l'ho detto a casaccio. Rischiamo che ci arriviamo veramente. Oggi andremo a svolgere un tipo di video un po' particolare. Innanzitutto ci vengo a ringraziare una persona proprio prima di iniziare che è il mio amico Marco Romboli, detto anche Overvolt. Lo troverete su YouTube, troverete il canale in descrizione perché se cercate qualcuno che sia veramente bravo a fare questo tipo di cose è meglio che andare a guardare lui piuttosto che guardare me. Qui insieme faremo comunque questo piccolo esperimento e vedremo cosa ne tireremo fuori. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella con tutte le modifiche. Iscrivetevi alla pagina Facebook, al gruppo SOS, PC, Tech e Review. E iscrivetevi al canale Telegram delle Offerte dove tutti i giorni pubriamo delle offerte. Ora direi che possiamo partire. Come qualcuno di voi avrà intuito dall'ultimo video, ho cambiato macchina. E fino a mo' dici sì, che ce ne frega quello lascialo fare daily vlogger. Sì, ho cambiato macchina. Quella vecchia non era più fattibile. Quella macchina va bene, ma ha un problema che penso abbiate capito. Devo dire una cosa. Vedi, non ha trovato. Lo stempe è una sorta di sovrapprezzo. E basta! E le persone, diciamo, normali, cosa farebbero in questo caso? Cercherebbero un'impostazione per cambiare quel suono. Io no. No, che io cambio il suono. Qua, su Satitec, cambiamo il suono. Avete sbagliato canale. Qui, infatti, io che ho deciso che devo fare un navigatore. Lo devo fare io, me lo devo inventare tutto da capo. E praticamente oggi vi andrò finalmente, cioè finalmente, per la prima volta vi andrò ad esporre il Project Alpha. Perché Project Alpha? Perché, per chi non l'avesse capito, quella macchina è un'Alpha. E quindi, siccome Project Alpha pare una cosa figa, ho deciso di chiamarlo Project Alpha. Raga, io non ho grande creatività con i nomi. Non è colpa mia. Date la colpa ai miei genitori. Praticamente in cosa consiste questo Project Alpha? Sarà un navigatore che avrà delle funzionalità molto avanzate. Sono dispositivi che esistono già belli e fatti, vi devo dire la verità. Quindi, diciamo che io non mi sto inventando niente e non mi prendo il merito di aver inventato nulla di strano. Cercherò però, ovviamente, di rifarlo io da capo senza acquistare un dispositivo già pronto. E avranno un pochettino anche da aggiungerci qualcosa in più, magari qualche feature particolare. Come realizzeremo tutto questo qui? Molto semplicemente, utilizzerò uno strumento che è uno strumento veramente figo, che chi lo sa usare bene ci fa veramente belle cose. Ed è anche, diciamo, l'accezione hobbystica di quello che poi faccio per lavoro. Anche se in realtà questi attrezzini, altro che hobby, ci puoi fare anche cosette molto carine. Ovviamente sto parlando dei Raspberry. Per chi non conosce le Raspberry sono, praticamente, delle schede programmabili dove al loro interno ci sta già un bel processorino, un pochettino di RAM, delle uscite. E più, praticamente, hanno queste entrate GPO, le chiamo in italiano perché non mi fai delle cose in inglese. Noi, praticamente, possiamo collegarci altre cose tra cui fare i sensori. Ad esempio, io ho già acquistato dei sensori ultrasuono per poi poter andare a fare, tra virgolette, i sensori di parcheggio. Praticamente l'idea del navigatore è questo cos'è? Sarà un navigatore normale di come quelli che vedete spesso nelle macchine, quindi farà il navigatore, mi dirà la strada che c'è. Ovviamente avrà i comandi Bluetooth per poterci collegare il telefono in modo da stare in chiamata senza stare al telefono perché è pericolosissimo. Ovviamente avrà tutto il tipo di lettore multimediale. C'è anche qualche funzionalità in più perché magari spesso mi trovo a fare viaggi molto lunghi. C'è pure la funzione, tra virgolette, di web browsing perché tramite il tethering del telefono gli posso passare anche la connessione internet. Quindi magari se sto fermo da un autogrill a qualche parte mi posso mettere a guardare qualcosa sullo schermetto da 7 pollici invece che sul telefonino. E poi un'altra cosa molto particolare che voglio aggiungerci è il controllo dell'OBT. Il controllo dell'OBT mi permetterà di fare delle cose abbastanza fighe perché per esempio posso anche creare, grazie a questo affarino, nel momento in cui la macchina arriva a 135 km orari mentre sto sull'autostrada, magari può partire un vocale che mi dice brutta testa di rallenta, per esempio. Oppure magari, non lo so, se è estate per esempio e la temperatura sale oltre un certo limite ma non è così alta, invece di accendere l'aria condizionata la macchina mi abbassa da sola i finestrini. Quindi quando è il controllo dell'OBT è il controllo davvero di tante cose fighe ed è una delle cose che voglio andare a implementare su questo project alpha, oltre a quella che penso poi sarà la cosa più difficile, i comandi al volante perché sinceramente ho un'idea più o meno di come far tutto, tranne per i comandi al volante. Anzi se qualcuno di voi mi vuole aiutare, io ovviamente chiederò aiuto, romperò le palle a overvolt, veramente lo creperò per sta cosa, però se qualcuno di voi ha già un'idea di come poterlo fare. Ora vediamo però che ho combinato fino ad adesso, perché adesso ho parlato più o meno in senso generico, quindi diciamo, vediamo un pochettino se ho combinato. In questo momento, quello che state vedendo da questa schermata, vabbè come vedete soltanto io metto le schede madre in poltrona, perché la scheda madre in poltrona, cioè quella è una X99, scusate se non la mettete in poltrona dove la volete mette. Che cosa abbiamo qui? Questo qui che vedete è un LCD da 7 pollici touchscreen, ora è tutto spendo. Questa qui è una tastiera del cavolo, in teoria qua ci andrebbe messo un tablet, ma io ci ho messo questo qui. Questa qui invece che vedete proprio i raspberry, questo affarino qui, uno si pensa, oddio chissà quanto costa, costa 35 euro, non costa niente e c'ha tante cose. Vedi per esempio qui ci fa l'alimentazione, questa qui è un'uscita HDMI, qui ci fa il cavetto dell'audio, questa addirittura ha una porta Ethernet e 4 port USB, che hanno una piccola limitazione, cioè che praticamente quando devo alimentare questo schermo qui, probabilmente il mio modello non è neanche quello uscito meglio dalla fabbrica, non riesce ad alimentarlo bene e mi fa un pochettino di flickering. Però sempre grazie a Marco di Overvolt e oppure a qualche tweaking che ci ho messo io, alla fine l'ho addrizzato e adesso funziona bene. Ora il progetto è a livello molto primordiale, ma già così è in grado di fare molte cose, perché qui dentro già c'ho montato Raspbian, che è praticamente una distro che discende da Debian, da Ubuntu, da Linux, eccetera, eccetera, per farvi capire. Non è poi così difficile, si scarica praticamente questo tool, che si chiama Noobs, su una scheda microSD, si infila qui dentro, non so se riuscite a vederlo al punto la microSD, dopodiché una volta che tu accendi sto coso, lui già da solo di far partire un programmino dove ti fa scegliere il sistema operativo da installare, il primo è Raspbian, poi ovviamente puoi scegliere. In questo momento c'è Raspbian e io punto a metterci qualcosa come Android o qualche altro tipo di personalizzazione, non lo so, devo ancora decidere. Per adesso il tutto come funziona? Molto semplicemente c'è questo tasto qui, vedete? Io lo premo, è accesa la lucetta, adesso tra qualche secondo, questa è un'altra cosa che devo migliorare perché è un pochettino lento ad accendersi, dovrei cercare qualcosa di un po' più veloce, perché non posso accendere la macchina e aspettare dieci minuti. Ora non so perché all'inizio mi fa queste striscine qui, però poi si tolgono, questo ve lo posso garantire. Abbasso un po' la telecamera perché secondo me non se ne avvete molto. Ok, vedete? Adesso va detto così, va 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 va, fa un pochettino di di roba e si accende. Ci mette circa un 30 secondi, 35 a rendersi operativo, forse anche 40. Un minuto? Perfetto, qui c'è lo schermo. Allora, lo schermo è già touchscreen, perché vedete? Non so se riuscite a vedere il video tocco e si sposta la freccetta. Questo qui già è molto interessante. Ora, già in queste condizioni, non è che gli manca poi tanto, perché io qui già dal menu, ho già un bel po' di cose, per esempio, qui ho già le funzioni, ci sta pure Minecraft, prendetevi conto, per andare su internet. Ora, da quello che penso è che comunque il sistema operativo sia anche abbastanza pesantuccio per l'affarino, però, comunque, qua alla fine è Chromium, ci posso andare su internet e vedere quello che mi pare. Ora, per chiuderlo, non lo so, perché stira a chiare. Ora, già da così, tra virgolette, dovrei aggiungerci semplicemente un modulo GPS, ci metto Google Maps, l'app di Google Maps, qui sopra. Ho già fatto mezzo navigatore, praticamente, perché tanto adesso, questo qui ha già il Bluetooth. Ah, questo qui che adesso non vedete, ok. Questo qui ha già il Bluetooth, ha già il Wi-Fi, quindi, volendo, io qui già ci posso comandare, già lo posso, tra virgolette, controllare con il telefonino e già lo posso connettere. Lo so che dico telefonino, sembro vecchio, però sono abituato a chiamarli così. Già questo qui è una cosa che posso fare, però, ovviamente, io ci ho aggiunto, di capoccia mia, questa qui, che non so se la vede, allora, raga, questa qui, questa webcam, a me non me ne frega niente, azienda, se poi mi direi qualcosa, si chiama Avit, questa qui è la webcam più schifosa che c'è sulla faccia della terra, cioè l'ho pagata 10 euro, forse ne vale 2, cioè, veramente, si poteva chiamare Avitec, per farvi capire. Ora, questa webcam USB, ovviamente, l'ho presa per fare, che brutti capelli, le funzioni di retrocamera. Già adesso, comunque, nonostante la webcam sia venosa, riesco, comunque, a vederci qualcosa. Vediamo, faccio così, ve lo devo inquadrare, ovviamente. Suono il video, vedete, cioè, non è che va rallentatore di più, però, comunque, sia con una webcam migliore, magari con la C920, che sto usando adesso per riprende, potrebbe anche andare decisamente meglio. Però, vedete, io la sposto, ci metto un quarto d'ora, però sposta anche lei la visuale. Quindi, diciamo, questo qui è il setup iniziale, quello che poi andremo, poi ci sarà un'altra puntata che dedicheremo più che altro ad appiccicarci le varie cose, tra cui sensori ultrasuono per fare i sensori di parcheggio, vediamo anche la scelta del sistema operativo, vedremo anche come appiccicarci all'OBD e come farlo funzionare, e poi magari facciamo un'ultima parte in cui proprio lo colleghiamo all'auto e vediamo, facciamo il collaudo finale, magari anche fatto qualcosa bene ed estetica, perché la macchina non è brutta, la vorrei mantenere caruccia. Ovviamente non è un progetto che finirò in una settimana, in dieci giorni o tra un mese, anche perché è qualcosa che richiede un po' di tempo, e io un po' di tempo non ce l'ho, non esiste. Io, come vi scrivo spesso nei commenti, ho smesso di dormire nel 2013, quindi non ho tempo neanche per dormire. Fatemi sapere cosa ne pensate, magari lasciatemi un like, lasciatemi dei suggerimenti, magari qualcosa che voi dite, perché non ci metti questo nella macchina, perché non ci metti quest'altro. Soprattutto, per me, nonostante io per lavoro faccio una cosa del genere, questi affarini qui sono totalmente nuovi, quindi non crepatemi se non sono proprio il massimo. Ci sto lavorando comunque, qualcosa sto capendo, però chi l'ha già fatto, chi l'ha già usa, può darmi tutti i consigli e le critiche che vuole, anzi sono ben accetti, mai come questa volta. Se qualcuno poi ovviamente vuole fare qualche tipo di qualcosa insieme, che c'ha già qualche idea, me lo dica, se trovo il tempo riusciamo a far tutto. Sono 14 minuti che registro, dovrò tagliare un po' di cose, quindi mi raccomando, e se non mi piace, commentate, condividete, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!